A partire dal 1 luglio sarà possibile presentare sul sito dell'Inps la domanda per ottenere l'assegno temporaneo per i figli minori. Allora vediamo quali sono i requisiti per ottenerlo. Giampiero Scarpati. Le domande vanno presentate a partire dal 1 luglio sul sito dell'Inps. Parte l'assegno Ponte, la misura destinata a un milione e mezzo di famiglie di autonomi e disoccupati che potranno chiedere per la prima volta l'assegno per i figli. L'assegno unico entrerà a regime da gennaio 2022. Non c'è nessun pericolo che le famiglie possano prendere di meno, dice il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. Il sito dell'Inps è pronto a presentare le domande dal 1 luglio. Possono essere direttamente ai cittadini oppure tramite i patronati o il contact center. Non sarà un click day per fare la richiesta, c'è tempo fino al 31 dicembre. Anche se per avere gli arretrati bisogna presentare la domanda entro il 30 settembre. L'importo base dell'assegno per ogni figlio è di 167 euro e mezzo. Dal terzo figlio scatta però una maggiorazione del 30%. L'assegno verrà modulato in base all'Isee fino a un tetto di 50.000 euro. Sotto i 7.000 euro l'assegno sarà pieno, poi si riduce fino al raggiungimento del tetto di 50.000 euro. La misura che scatterà per tutti dal 1 gennaio 2022 riguarda tutti i figli a carico minorenni e i maggiorenni fino ai 21 anni se studiano o fanno attività di ricerca. Sostituisce tutti i sostegni alla genitorialità esistenti, dalle detrazioni per i figli a carico agli assegni al nucleo familiare e di natalità.